Gli obiettivi sono quelli intanto di stare insieme in campo, divertirci e senza dubbio arrivare tra le prime tre della classe. Sì, tra i nostri obiettivi cercheremo di fare il possibile per arrivare a questo importante traguardo. Abbiamo iniziato bene con una vittoria, poi abbiamo subito una sconfitta, ma per alcuni infortuni alla Rosa. Poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto quattro vittorie di fila, un pareggio importante esterno e adesso abbiamo ritrovato il giusto ritmo. Per cui? Il futuro? Il futuro? Cerchiamo di pensare ad una partita alla volta. Sì, il settore giovanile è da diversi anni che è sotto particolare attenzione, ci occupiamo dei corsi di avviamento alla palla a mano per le classi primarie, poi abbiamo proprio il settore giovanile dall'Under 8 all'Under 16 e partecipiamo al campionato regionale del 14 di Sommerskile.